Eccoci tornati in Ricorosa Diretta 17.38, torniamo seri, riusciamo ad avere in collegamento Laura Silvestroni della Proloco anche di Candellara di Pesaro, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti. Fortunatamente vediamo sul suo volto adesso alle 17.39 un sorriso, uno sguardo anche che dà serenità. Questa mattina il suo risveglio però non è stato semplice, ce lo racconti. Assolutamente no, eravamo molto più tesi di adesso, anche se comunque la tensione resta perché il timore di nuove scosse che siano di astestamento o comunque forti c'è sempre, perché comunque quando trema l'unica certezza che hai, cioè la terra sotto i piedi, è veramente spaventoso. Stamattina una mattinata normale, ci si preparava per il lavoro, per la scuola. Abbiamo cominciato a sentire a tremare, tant'è che io pensavo fosse mio figlio che si andeva dalle scale in modo un po' irruento. Poi abbiamo capito che non si fermava e ha cominciato un movimento sul sultorio che veramente ha fatto cadere oggetti dagli scaffali. Io mi sono spaventata, abbiamo cominciato a strellare, siamo corsi tutti fuori e fortunatamente quando ha dato la seconda forte scossa di assestamento noi eravamo fuori in giardino, quindi siamo riusciti ad evitare, siamo corsi a dei genitori anziani che abitano qui vicino. È stata una scossa importante, sì, è stata una scossa spaventosa. Come hanno reagito? Vedo che, tra l'altro, penso che per loro sia stata la prima volta. Sono piccoli. O già ricordano? Allora, il grande ha 13 anni, quindi quella del 2016 se la ricorda ma non aveva esatta la percezione. Il piccolo a 5 anni, la sua reazione ovviamente è stata di spavento, anche perché l'abbiamo preso in braccio, lui ha capito che qualcosa non andava. Poi quando eravamo fuori che ci siamo calmati mi ha detto, mamma sai che noi a scuola abbiamo fatto il gioco del terremoto, ci si mette sotto il tavolino, si conta fino a 10 e poi si esce. E quindi questa cosa mi ha sorpreso perché comunque ho capito anche che nelle scuole preparano i ragazzi, anche se arriva sempre talmente improvvisamente che non si è mai veramente preparati. Dopo è arrivata la notizia prontamente dal sindaco Matteo Ricci che le scuole sarebbero state chiuse e poco fa è arrivata la notizia che saranno chiuse anche domani. Personalmente siamo contenti per la sicurezza dei ragazzi, sono chiusi anche gli stabilimenti, ad esempio della piscina, sono chiusi gli uffici pubblici aperti al pubblico dove ad esempio anche io lavoro, siamo smart working, quindi sono state prese tutte le tutele per garantire la sicurezza. esatto, gli uffici pubblici è proprio quello che la collega Aurora Vena prima con il vice sindaco dicevi no? Al di là delle scuole, gli ospedali, ci sono pure gli uffici pubblici. Laura e come affrontete questa notte? C'è ancora paura Laura perché comunque alluvione a settembre, terremoto nel 2016, ci sono passati molti anni ma comunque ancora adesso conosciamo il sismino, per questo è la domanda di Aurora Vena. Sì, è stata una stagione difficile, sono sincera, ma i marchegiani sono forti, si piegano ma non si spezzano. Sì, 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 ci rinvochiamo le maniche anche qui a Candelara, stiamo preparando con la Proloco la festa di Candela Candelara che si terrà dal 26 novembre fino a metà dicembre, quindi i preparativi non si fermano. Nell'immediato abbiamo fatto quello che la protezione civile consiglia, di preparare una borsa con il necessario, i vestiti vicino alla porta per essere pronti a uscire nel caso in cui speriamo di non ci sia un'altra scossa. Però queste sono le precauzioni che intendiamo prendere questa sera. Insomma, vi auguriamo che quella borsa domani la andrete a dispare senza che venga utilizzata. Laura, grazie davvero per essere stata qui con noi, per averci raccontato cosa si prova, cosa si vive, se nessuno ci è passato in prima persona, è davvero tremendo. Come diceva Laura, quando senti la terra che ti manca sotto i piedi non sai veramente che cosa fare. Grazie a Laura Silvestroni della Proloco di Pesaro. Grazie. E noi andiamo adesso da una valigia che ci auguriamo si può soddisfare nel minore tempo possibile, a chi la valigia la deve sempre avere piena, sempre lì a portata di mano perché viaggia sempre. Iniziamo adesso con la parte di pomeriggio con noi anche un po' più di intrattenimento, anche un po' più leggera e quindi buonasera e benvenuta a Veronica Crocitti che è una giornalista food travel blogger. Ciao Veronica, benvenuta. Ciao. Ciao, buonasera a voi, buonasera a tutti i teleascoltatori. Scorci di mondo travel club, se non sbaglio, il tuo nick su Instagram, 55.000 follower. È un mestiere amato quello di travel blogger, a tutti piacciono il travel blogger. Tutti vorrebbero fare il travel blogger. Esattamente, però è anche molto criticato quello del food blogger adesso, per vari motivi. Sei più una giornalista, una travel blogger o una food blogger? 30, 30 e 30. Sì, direi di sì che è una figura un po' ibrida anche se la mia, insomma, io nasco come giornalista quindi devo confessare che questa parte di me l'ho sempre portata in tutto quello che ho fatto e anche chiaramente nel percorso che ho avviato come travel blogger, principalmente food blogger perché comunque diciamo che quella del cibo è una sfera assolutamente integrante, una parte integrante del viaggio, di ogni vacanza e quindi secondo me è imprescindibile, cioè non si può parlare di viaggi se non si parla anche di cibo, di food, soprattutto quello locale. Attraverso il cibo, ma sei una di quelle che quando viaggia lo cerca il ristorante italiano dopo un totto di giorni? No, ti prego, dimmi di no. Perché dopo tre giorni scatta il richiamo della pasta, dopo tre giorni vuoi lo spaghetto. Non ci credo. Dopo tre giorni a Parigi anche tu vorrai lo spaghetto. No, mi accontento della zuppa di cipolle Parigina. Dicci Veronica, tu invece. No, vabbè, io confesso che sinceramente quando viaggio in cibo italiano, almeno quando viaggio fuori Italia chiaramente in cibo italiano non neanche lo cerco, neanche lo voglio cercare perché mi piace sperimentare quello che insomma gli altri paesi hanno da offrire. Giusto oggi stavo discutendo sulla frutta che abbiamo in Italia a paragonare a quel che ho assaggiato in altri paesi, non so come in America Latina. Il Dragon Fruit, Veronica. Che cos'è il Dragon Fruit? Come non sai che cos'è il Dragon Fruit? Veronica, tu lo sai, l'avrai assaggiato nei tuoi viaggi, quel frutto rosa che dentro invece è bianco a palline, con i puntini neri. No, no, no. Non hai mai visto il Dragon Fruit? No, non ne hai mai visto. Tu Veronica l'hai assaggiato con me? Io sono curiosissima. No, no, allora io ne ho assaggiato i diversi frutti esotici. Il Dragon Fruit l'ho assaggiato in zona tipo Thailandia, in quelle zone dove ci sono principalmente questa tipologia di frutti. È buono, a me comunque questa frutta esotica piace tanto, soprattutto di solito in questi paesi la propongono anche sotto forma di succhi premute, molto dolci, con un retro gusto molto particolare che può piacere come può non piacere. Dipende anche dai diversi palati. Però già il fatto di provare questi gusti che ti sembrano davvero molto lontani, ti fanno viaggiare già il frutto, il gusto, il sapore che ti permette di fare un viaggio. Ma Veronica, ci racconti, torniamo, facciamo un bel passo indietro, perché prima ovviamente di avere una pagina Instagram, Scorci di Mondo, è un blog. Quando nasce, è nato dopo un viaggio in particolare o sono stati, diciamo è nato così, è iniziato a pubblicare qualcosa e poi hai detto, ma perché non ci credo? La gente mette like, mi fa le domande quando mi incontro, oppure mi iscrivono e allora. No, allora in realtà è nato prima il blog nel 2016 e poi sono nate le pagine social, proprio perché come dicevo insomma io ho sempre avuto la passione della scrittura, ho fatto la giornalista per anni, scrivevo di cronaca nera e giudiziaria. Ah, proprio siamo lì allora però, dalla cronaca nera e giudiziaria al giornalismo di viaggi, un bel salto, un bel cambiamento. No, ma è stata proprio diciamo l'esigenza di non scrivere più di cose che io definivo cose brutte e siccome i viaggi per me sono sempre stati una cosa bella, allora ho detto perché no. E ho aperto il blog e ho iniziato a scrivere insomma dei viaggi che avevo già fatto, ero appena tornata da un viaggio in Bulgaria e quindi poi insomma da lì è partito il progetto e sono aperto le pagine social, ho iniziato un po' a smanettare sui social, a fare postare, a creare una piccola community e devo dire che adesso... L'hai creata poi, no? C'è la fiderezione. Io cara Aurora voglio andare vicino a Veronica, vado vicino, ogni tanto devo fare una passeggiata, non è che posso stare a quattro ore così. Questo non è un viaggio Francesco. Per me è un viaggio, io mi accontento di poco Aurora, mi accontento di poco. Vado vicino a Veronica. Veronica portalo con te. Vado vicino a Veronica, ho bisogno di fare una passeggiata un po'. Scusami Manuel Manziere Gia, vi spiego perché, vi spiego perché, perché dopo un po' che sei all'estero, io sono rimasto al cibo italiano, adesso mi sono entristato per un po', sì sono rimasto al cibo italiano, perché dopo un po' che sei all'estero, Cara Veronica, oltre che ti viene la voglia, no, del rigatone, non lo so, della pizza, è che è molto più semplice da trovare ovviamente ormai internazionale. Bene. La cosa bella è poi andare a mangiare l'italiano all'estero e dare i voti, e dare i voti. Zero, zero. Ragazzi, io vi posso assicurare, Veronica, sei stata a Copenhagen, Veronica? Ah beh, che vuol dire a Copenhagen? Aspetta, aspetta, aspetta. A Copenhagen dovete sapere, si mangia una delle pizze più buone del mondo. Questa non la sapevo neanche io. È a Copenhagen, c'è una delle pizze buone del mondo, è meraviglioso. Devi verificare, Veronica. È una pizzeria italiana, ovviamente, è pluripremiata delle stelle vicinelle. Ma quanto la paghi una, eh vabbè Francesco. Quanto la paghi, la paghi 20 euro, però te la mangi, ho capito, ma la costa tutto così. Non è neanche troppo, una pizza stellata a 20 euro soltanto. Una pizza napoletana, che tu trovi ovviamente a Napoli o un, quella costa 20 euro, perché comunque costa tutto tanto, ma il segreto poi va bene, ti raccontano, comunque sono le materie prime che sono di lì, sono fresche, quindi la freschezza fa sì che sia buona. Però dopo un po' c'hai voglia di cibo italiano. Bene, è il cibo più strano che tu abbia assaggiato. Perché ad esempio ho visto in un altro, scusa non ti interrompo, Travel Blog, è famosissimo, che è Human Safari Nicolò Balini, che lui è andato in, e l'ho fatto anch'io, in Svezia, e lui ha acquistato, esiste un cibo, che è l'unico cibo che non può essere portato a bordo di un aereo. Perché? Perché sono le aringhe fermentate. Lo so, è un qualcosa di molto forte. Cioè, tu mi dici che cerchi la pasta, la pizza e poi... No, aspetta, io l'ho acquistato al supermercato, insomma, nel nord di Europa, proprio per sentire... No, 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 per sentirlo dove, se veramente era così forte, posso assicurare che è così forte, quindi c'è un motivo, se non può essere portato sugli aereo, c'è questo... Che spendi tutti i passeggeri. No, è una cosa devastante, non puoi capire. E lui l'ha assaggiato e l'ha anche rigettato, perché funziona così. Ecco, quindi per lui quella era la cosa più strana, per te invece? Allora, io ho assaggiato le meduse in Giappone. Beh, sono morbide, fragranti, immagino, no? Sì, ma a mia insaputa, nel senso che comunque sono andata in uno di questi grandissimi mercati giapponesi, dove vendono pesce fresco, insomma, puoi andare lì, puoi prendere qualsiasi cosa. Chiaramente io non... Perché l'avranno spacciata per polipo, la medusa, no? Dico, tu, è proprio delle meduse, da tutto il pesce che c'era. Calamaro, che non so. L'ho scoperto dopo, perché in realtà era tutto scritto in giapponese. Eh, certo, senza in Giappone. Mi volevano capire queste cose, assaggiamole. Poi avevo un'app che mi traduceva, diciamo, i segni giapponesi, che chiaramente mi funzionava solo in albergo, quindi ho assaggiato le meduse. Ero curiosa di capire che cosa avessi assaggiato, solo che l'ho scoperto in albergo. E com'era, com'era, com'era? Infatti. No, buone, devo dire molto buone, onestamente. Sì, sì. Ma sulle meduse io lo sapevo, in realtà. Ma come lo sapevi? No, sapevo che non avessero chissà quale sapore, perché ricordo, questo ricordo veramente nitido, di quando ero bambina, che in spiaggia, al mare, quando c'era il periodo in cui c'erano parecchie meduse, arrivavano i cinesi con le loro borse frigo, se le caricavano... Vabbè, adesso, gli orientali, perché nella cultura orientale si mangia evidentemente. Però arrivavano con le loro borse frigo, li conservavano e li mangiavano. E poi, parlando, dicendo, ma che sapore ha, se non mi sbaglio, si dissero, guardi, più o meno come il polipo, cioè un pesce. Sono diretto, è come un polipo. Quello che mi fa più stare, non hai mai provato insetti, invece, Veronica? Perché è proprio in Cina, in quei mercati. Doveva essere la nuova moda, però, anche in Italia, perché avevo letto... Le farine. Le ristoranti con le farine di cavallette. Sono proteine a basso costo, li chiamano. Le proteine a basso costo. Quelle le, perché so che in Cina, in questi mercati, si vendono anche spiedini, infatti di forzioni. Ma, ragazzi, c'è un limite a tutto, c'è un limite a tutto. In Thailand... È il cibo del futuro, Francesco. Ma cibo del futuro, ma sto a digiuno. Preparati, tu vuoi sempre la patriciana. Parà la patriciana con sugo e cavallettine. Veronica, insetti mai? No, insetti no, non ce l'ho fatta. In Thailandia, praticamente, li trovi ovunque, perché è un cibo... Di strada, molto in boga, però no, non li ho mai assaggiati, devo essere onesta. E lo street food più buono che tu abbia mai assaggiato, che cos'è? Qual è? Dov'è? Allora, come street food, devo dire che ho assaggiato qualcosa in Perù. Praticamente, diciamo, a seconda delle zone trovi diverse pietanze, perché il Perù si estende sia sul mare che sulle montagne, sulle Ande, oltre 5.000 metri. Quindi lì è stato molto carino, perché in qualsiasi posto tu andavi, trovavi pietanze estremamente diverse. Quindi dal pesce, o ad esempio dai legumi, addirittura i porcellini d'India, che lì sono considerati uno street food, soprattutto sulle Ande. Sì, sì, cose abbastanza strane per noi europei. Per quello piccolino, bellino, che sembra un cricetta un pochino più grande. Che non te lo mangeresti mai. Sì, esatto. È un antaro un po' più grande. Un antaro un po' più grande. Non ci sta come per riferimento. No, è giusto, è appropriato, è appropriato, è giusto. Non mi scatare un antaro, mi dispiace. C'è da dire che quando si esce dall'Italia si può andare ovunque, se mangia male. E questo si può dire. Io mi rifaccio una passeggiata verso Veronica. Ne ho bisogno. Hai visto che bei cubi che abbiamo? Non c'entra niente, ma te lo dico. Allora, perché Veronica? Perché io sono stato, come si dice a Roma, assolato alle Isole Canarie. Te lo spiego bene. Perché su questo menu che era Veronica... Sei stata alle Isole Canarie? Immagino di sì. Sì, sì, sì. Quale, quale dell'arcipelago? Quale, quale? Gran Canaria. Gran Canaria, che è un po' la capitale, possiamo dire, no? Grattacerico, Spalomas. Tantissimi ristoranti di nato. Tu ti giri solo pizzerie, ristoranti, solo roba italiana, vedi, ok? Invece Tenerife, diciamo, è un'isola un po' più selvaggia, vulcanica, tutta un'altra storia. Sì, sì, sì. Meno italiani, ma sempre una bella volontetta. Tutti gli andati negli ristoranti italiani. Non so, da Querteventura, un'altra, che era un misto. Però sono andato nella Sud, nella zona Sud, che è Coraleco, dove erano solo italiani. E mi hanno propinato, cara Veronica, le patate canarie. Buone, come so? Si chiama patata sbrava, una cosa del genere. Praticamente, fondamentalmente sono delle patate molto piccole. Ma dai, sono buone da appertutto. Certo, sono patate piccole, piccole, lesse. Buone. Se volevo le patate lesse, me le mangiavo a casa mia, a nonna o certo. Assolutamente, questo per farvi capire il loro piatto, me l'hanno decantato come... Poi ho preso le tapas. Allora, le tapas è un, diciamo... Sentiamo cosa dicevi. Un modo di servire più che altro, Veronica. Un entredici, un antipasto? Cioè, sì, perché antre... Chiamiamoli antreo amon bush, cioè soltanto quelli che metti direttamente in boccia. Che sono piccoline, insomma. Sono degli assaggini di cose diverse. Invece là avevo un altro nome, tapas qualcosa. Praticamente mi hanno portato una frittata con le patate, che è per carità buona, buonissima. L'empanata. L'empanata, allora vedi che mi sbaglio. L'empanata, una frittata con le patate. Veronica, io davanti alla frittata con le patate, se la fa mia madre, mi inginocchio e dico grazie mamma che me l'hai cucinata, ma non è che vado lì da Fuerteventura a mangiarmi la frittata. Gente, Fuerteventura, la prossima volta che viene Francesco Acchiardi, se siete in ascolto per piacere dovete rinnovare un po' il vostro menù. No, venite a mangiare a casa mia, cucino io e poi capiamo. Ma si vede. Vuole sapere che ne penserebbe tua mamma di questo invito che hai fatto. Veronica, tra l'altro, è curioso questo. Abbiamo parlato di Fuerteventura. Allora, sono scatenato, hai visto? Prendiamo come esempio le isole Canarie. Prendiamo come esempio le isole Canarie. Perché? Perché le isole Canarie sono popolate da tantissimi italiani. Chi ha un'agenzia di viaggi, chi ha aperto una radio, tra l'altro famosissima, chi fa il cuoco, chi ha una lavanderia, chi ha aperto un hotel, tutti fanno qualcosa. Il tuo operator. Però ti mancano le parole. Certo, però perché vanno lì e fanno fortuna? Non perché sia una terra così rigogliosa. Vanno lì e fanno fortuna perché mi raccontavano che manca la professionalità. Cioè, in Italia sappiamo fare cose che all'estero evidentemente non sanno fare così bene. Questa è una storia che hanno raccontato. Tu che hai viaggiato molto in varie parti del mondo. Hai riscontrato questo aspetto, infatti. Allora, dipende dalle zone. Perché ci sono paesi in cui la professionalità è vero, è molto minore rispetto alla nostra, ma anche, insomma, il know-how in diversi settori. Però ci sono altri paesi che invece veramente predominano anche sull'Italia. Secondo me le isole Canarie sono un piccolo paradiso. Lo sono state anche durante il periodo della pandemia, dove tantissimi, soprattutto nomadi digitali, si sono trasferiti e hanno vissuto là per mesi interi. Anche tanti travel blogger che io conosco hanno fatto la vita, diciamo, nomad alle Canarie, perché è sicuramente una vita anche a livello di clima. Il clima italiano è fantastico, però alle isole Canarie lo è ancora di più. E poi ci sono tante agevolazioni. Tra l'altro, raccontavano delle temperature, che il periodo migliore per andare è proprio questo, quello di novembre e dicembre. La zona, fanno 40 gradi con la zona. Veronica, però, oltre ad aver girato mezzo mondo, da quello che abbiamo capito, tu non hai dimenticato, insomma, il nostro bellissimo paese. Io ho letto di una fantastica iniziativa che hai fatto qualche anno fa, hai girato la Sicilia in 500. Esatto. La Sicilia... Ma è fantastico. La 500, poi perdonami, perché questo vuole sapere. Era tua, ce l'avevi, magari di qualche parente, di qualche nonno, l'hai comprata appositamente. O noleggiata. O noleggiata, sì. Ma io avevo la 500 che chiamavo la mia paperina, era una 500 dell'89, quindi più o meno aveva la mia età. Ho fatto questo giro, però in realtà in ogni tappa collaboravo anche con i Fiat Club 500 di zona, che mi prestavano... E ti venivano a trovare poi loro, no? Ti venivano a trovare, ma soprattutto mi prestavano altre 500 per realizzare foto e video. Quindi in ogni tappa in realtà c'era una 500 diversa. C'era la L e la R, perché c'erano diversi modelli, chiaramente. Quindi è stata veramente un'intensiva carinissima. Bello, bello, bello. La prossima tappa, il prossimo paese, il prossimo punto che andrà a toccare sul mappamondo. Il prossimo cibo che andrei ad assaggiare e che Francesco non mangerebbe mai. Guarda, te lo dico io, dimmi dove vai e ti dico cosa si mangia. E ti dico a quale ristorante italiano andare. Dimmi dove vai e ti dirò chi sei. Una volta, vabbè, a Londra mettono l'origano sulla pizza, una cosa che purtroppo fanno anche in Italia. L'origano sulla margherita no. Sulla margherita no, sulla marinara sì. Certo, ci vuole la sua marinara. Dove andrai tu, Veronica? Allora, la prossima tappa è tutta italiana. Infatti la prossima settimana sarò in Abruzzo. Oh! Brava. Arroso i cini? Bene. Esattamente. Mentre quella successiva a dicembre invece sarà Israele. Lì la pizza la vedo difficile. Molto interessante. La pizza lì è difficile. Non è che vai a Israele per mangiare la pizza. Appunto. E meno male. Quanti giorni sai in Italia? Dove è preciso poi? No, sarà un itinerario a partire da Tel Aviv, Gerusalemme, Bethlehem, Giaffa. Un itinerario, insomma, per tutto il paese sono undici giorni. Bello. Finiamo a disturbare. Undici giorni, diciamo che su undici giorni c'è l'entusiasmo dei primi giorni, quindi ti va bene tutto. Al quinto giorno hai bisogno del regatore. Ok, ripara a sapere, Francesco, farà adesso una bella ricerca per capire quale pizzerie in Israele fanno la pizza italiana buona così tu al quarto o quinto giorno puoi andare. Vai a nome mio a Tel Aviv, non hai problema. Biglietto da visita, davvero, cioè ti stendono un tappeto rosso, anche una tovaglia rossa magari. Veronica, grazie per averci raccontato la tua storia, abbiamo anche alleggerito. Grazie a te, grazie a voi, grazie. Ciao, ciao Veronica. Ciao Veronica, ho deciso, oltre che la fame, ho deciso che io continuo la trasmissione da qui alle 19.30 in dei punti diversi, cioè tu adesso mi trovi qui, fra un secondo mi trovi là. Sarà contentissimo, vedo già contentissimo il nostro regista Emanuele Mattei, vero Emanuele? Grazie a te, grazie a te.